carissimi amici amiche bentornati ad una nuova avvincente puntata del ciclo di catechesi dedicata alla meravigliosa edificante spettacolare storia di maria di magdara così come c'è stata consegnata da quella piccola gemma italiana di purezza di fedeltà e santità che la carissima maria valtorta a cui dobbiamo essere almeno per quanto mi riguarda estremamente grati per il lavoro compiuto in anni e anni di solitudine inferma forzata su quel benedettissimo letto grazie di poter visitare dove ha ricevuto queste comunicazioni dall'alto che ci hanno permesso di ricevere questo don immenso che certo non è proprio il film sul Vangelo ma come dire la sceneggiatura però ci avete mai pensato se ci fosse qualche super regista c'è se netflix che sono veramente fenomeni a fare queste cose immaginate che serie tv i dieci volumi del poema dell'uomo dio 50 stagioni e se seguissero la lettera quello che ci sta scritto lì con degli attori bravi immaginate no magari qualcuno di netflix ascolta sta catechesi ci pensa immaginate che roba perché lì c'è la sceneggiatura amici tutto c'è tutto govione tutti i dialoghi tutto io lo metto in mano agli attori chi fa lazzaro gli fa male di magda eccetera eccetera lo studiano poi prende un regista con i contrattributi un po di bravi tutto montatori eccetera eccetera comunque per ora il film ce l'abbiamo dentro la fantasia però già già qualcosa insomma ci dobbiamo pensare a queste cose perché tra gli infiniti motivi per dire grazie all'altissimo quantomeno per chi ci crede c'è anche questo e io vi dico insomma la prima volta fin dalle prime righe che che lessi di questa di quest'opera ci ho creduto subito senza nessun dubbio non l'ho mai avuti e difficilmente qualcuno mi farà venire insomma va bene fatto questo piccolo preambolo un po appassionato perché per me c'è qualcuno che ogni tanto mi ringrazia ma per me va sicuro che rileggere questo testo e commentarlo ma come in tutte le cose che cioè questa cosa vale con libri di cielo con cioè ci dovete credere che il primo che ne sono edificato anche cioè sono io stesso sono quindi è una delizia anzitutto per me quindi ho la grazia e la grazia e la fortuna sapete che si dice per le persone che vivono la vita civile sei stato fortunato a fare il lavoro che ti piace ma più fortunato di me medesimo insomma non è che questo mi piace di più ma lei di Leonardo fa tanti sacrifici si spende ma quando mai non è nessun sacrificio non è niente per me è una come dire è una delizia e questo sono semplici condivisioni perché quando uno ha una delizia non se la tiene per sé la condivide con chi pensa che sia un altro perché che per chi pensa come come lui che sia una una delizia no così ci deliziamo insieme ma per me non è nessuna nessuna fatica cioè infatti dico ma non ho neanche nessun merito perché cioè uno per avere dei meriti e farà anche piccolo sacrificio questi non sono sacrifici questi questi sono delizie e quindi vabbè fine dei preamboli allora la gioia e la riconoscenza del fratello adesso vedremo quando Lazzaro esprime la sua immensa gioia per questa pecorella ritrovata vado a leggere che ho già chiacchierato proprio oltremodo oltremisura da Magdala dove Gesù ha dato il mandato e 72 discepoli a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli è il sottotitolo di questo capitolo il famoso campo dei Galilei così credo che voglia dire la parola usata da Gesù per dare designazione al luogo di ritrovo con i 72 discepoli mandati avanti non è altro che una parte del monte Uliveto più spostato verso la strada di Betania anzi questa passa proprio di lì ed è anche precisamente il luogo dove in una visione lontana ho visto accamparsi Gioacchino e Anna con l'allora piccolo Alfeo presso altre capannelle di frasche nei tabernacoli che precedettero la concezione della Vergine oh qui all'antivigilia della festa dell'Immacolata questa chicchetta assolutamente imprevista e inaspettata diciamo che ci sta proprio bene manco poco no? la concezione della Vergine guardata Maria Altorta che Anna fa un voto che non c'è la stafiglia insomma sono i primissimi capitoli del primo volume che comincia proprio con la concezione della Vergine il film comincia con Gioacchino e Anna ecco diciamo così scenari dai speriamo che qualche che qualche che 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 fate una preghiera che qualcuno di Netflix ascolta sta roba qua dai stasera mi ha presa sta fissa ma vi immaginate oh ma io veramente vado cioè vado in delirio eh vabbè Gesù indica il posto da prendere per loro capannucce proprio i limiti orientali del campo di Galilea e gli apostoli insieme ad alcuni discepoli fra i quali il sacerdote Giovanni lo scrive a Giovanni il sinagogo Timoneo più Stefano Ermasteo Giuseppe di Emmaus a Belle di Betle Nicarilea si danno a costruire le capannucce stanno facendo e Gesù sta parlando con bambini di Cafarno che si sono stretti intorno domandogli cento cose confidandogliene altre cento quando sulla via che viene da Betania sopraggiunge Lazzaro insieme all'inseparabile Massimino Massimino era per farvi capire l'ancello di Lazzaro sapete che l'ancella era era la la serva ad personam no? ecco Massimino era il servo ad personam di Lazzaro questo è inseparabile altra bellissima figura che nell'opera si vede si vede molto anche di questo personaggio minore un gregario però che ha la sua bellezza e importanza no? Gesù ha le spalle voltate e non lo vede venire ma in cambio lo vede l'iscariota e ne avvisa il maestro che lascia i nassi i bambini e va sorridendo verso l'amico Massimino si arresta per lasciare piena libertà i due nel loro primo incontro e Lazzaro fa gli ultimi metri svelto per quanto lo può camminando più che mai venosamente con un sorriso in cui tremano sofferenze e lacrime tanto sulla bocca che negli occhi Gesù gli apre le braccia e Lazzaro legate sul cuore con un grande scoppio di pianto chiedo scusa a chi sta in diretta ma c'ho il gatto che mi ha salito in un posto vediamo se riesce a scendere mamma mia mamma mia va bene scusate eh anche a chi ascolterà podcast di feriti incidenti domestici con i gatti che non ci vedono bene adesso abbiamo visto Lazzaro che cammina penosamente con sofferenza e lacrime ecco Gesù gli apre le braccia e Lazzaro legate sul cuore con un grande scoppio di pianto ecche amico mio piangi ancora gli chiede Gesù baciandolo sulla tempia lui tanto più alto di Lazzaro tutta la testa e parendo anche più alto perché Lazzaro sta curvo nel suo abbraccio di amore e di rispetto infine Lazzaro alza la testa e dice piango sì ti ho dato lo scorso anno le perle del mio triste pianto è giusto che tu abbia le perle del mio pianto di gioia oh maestro maestro mio credo che non ci sia più umile e santa del pianto buono ah questo proprio sottoscrivo al 8000 per cento e te la do per dirti grazie per la mia Maria che ora non è più che una dolce bambina felice serena pura buona o molto più buona ancora di quando era fanciulla ed io che mi sentivo tanto da più di lei nel mio orgoglio di israelita fedele alla legge ora mi sento tanto piccino tanto niente rispetto a lei che non è più una creatura ma una fiamma una fiamma santificante io non so capire dove ella trovi la sapienza le parole gli atti che trova e che edificano la casa tutta io la guardo come si guarda un mistero ma come tanto fuoco tanta gemma potevano essere celati sotto tanto marciume e viverci al loro agio né io né Marta saliamo dove ella sale ma come può se ella ha avuto le ali spezzate dal vizio io non capisco sentite che risponde Gesù mamma che grande e non c'è bisogno che tu capisca basta che capisca io mamma mia facciamo un bel quadretto noi non dobbiamo capire mi rallego di sentire queste cose perché sapeste tante volte quando non capivo tante cose dico vabbè io non capisco signore mio basta che capisci io dobbiamo ricordarcela questa frase qui questa è una frase un cult proprio anche perché proprio da lui però siccome Lazzaro è un amico allora Gesù gli fa presente quello che capisce e allora tanta roba no? ma te lo dico Maria ha rivolto al bene le potenti energie del suo essere ha piegato il suo temperamento verso la perfezione e posto che ha un temperamento di un assolutismo potente ella si slancia senza riserva per questa via ah guardate capite bene il senso ma io di una madre di Magdala sono assolutamente innamorato capite il senso perché uno spirito come questo qui è uno spirito fotocopia quindi sapete che similes con similibus vanno no? quindi ella fa servire alla sua esperienza del male per essere potente nel bene come lo fu nel male e usando i suoi stessi sistemi di donarsi tutta che aveva nel peccato si dona tutto a Dio ha compreso la legge dell'ama Dio con tutto te stesso col tuo corpo e con la tua anima con tutte le tue forze se Israele fosse fatto di Maria se il mondo fosse fatto di Maria avremmo il regno di Dio quale sarà nell'altissimo cielo sulla terra wei attenzione qui dobbiamo fare una telefonata a Luisa Piccarreta adesso per forza te che ha detto se Israele fosse fatto di Maria di Maria e se il mondo fosse fatto di Maria avremmo il regno di Dio sulla terra come in cielo attenzione informazione warning prendere appunti prendere appunti quindi che cos'è questo regno di Dio che scende sulla terra c'è come si fa a venire di una volontà io non lo so è tutto difficile iscritti dalla Piccarreta non ce capisco niente guarda Maria di Magdala qui Gesù sta dicendo che qualcosa di grosso e qual era il segreto di Maria di Magdala così facciamo questa sera la comunicazione di Ommatum perché guardate è mia convinzione personale questa opinionia opinabilissima per carità presumo anche che più di qualche magari confratero si sentisse queste cose magari va su tutte le furie o mi scrive qualcosa contro ma io sono proprio convintissimo che quando sarà finita la tribolazione della nostra martoriata chiesa che è martoriata ma non possiamo nemmeno immaginare e questo Ramadonna l'ha detto in tantissimi posti l'ha detto in tanti bei messaggi anche di schio ma non solo Fatima l'ha fatto capire il mio cuore immacurato trionferà per chi vuole stare sul sicuro di ciò che la chiesa proprio in tutto ha provato quello che vedremo è inimmaginabile e supererà di molto lo squallore a cui stiamo assistendo adesso e in questo che vedremo io sono sicurissimo che Maria Valtorta Luisa Piccarreta entrambe persecutate attaccate mortificate in vita e soprattutto in morte dopo la morte saranno riabilitate al 3000% e i loro scritti saranno presentati come non soltanto che avete niente di contrario alla fede ma come strumenti raccomandatissimi per nutrire e far crescere lo spirito sono due personaggi distinti ma complementari e per chi sa vederlo per certi aspetti si rimandano l'una all'altra comunque Lazzaro interviene e dice oh maestro maestro ed è Maria di Magdala quella che merita queste parole e Gesù ribatte è Maria di Lazzaro la grande amica sorella del grande amico mio ma come avete saputo che qui ero se ancora mia madre non è venuta a Betania cioè grande amico mio e Gesù aveva un grande amico un grande amico terreno e aversi Gesù come grande amico è tanta roba se posso permettimi un suggerimento diventare amici di Gesù è veramente una grande cosa quindi come avete saputo che qui era venuto forzando il cammino il fattore dell'acqua speciosa dicendomi che tu venivi ed io ogni giorno ho mandato qui un servo poco fa e sei venuto dicendo egli è giunto ed è al campo carrilea sono partito subito ma tu sei sofferente tanto maestro queste gambe e sei venuto ma sarei venuto io presto ma la mia fretta di dirti la mia gioia ribatte Lazzaro era troppo tormentosa sono dei mesi che ce l'ho dentro una lettera ma che è una lettera per dire una simile cosa io non potevo attendere più verrai a Betania certo risponde Gesù subito dopo la festa sei molto atteso quella greca che mente questa è sintica parlo molto con lei avida di sapere di Dio ma ella è molto colta e io resto soccombente perché non so bene certe cose ci vuoi tu ed io verrò dice Gesù ora andiamo da Massimino e poi ti prego di essere mio ospite mia madre ti vedrà con gioia e tu riposerai fra poco verrà col bambino e Gesù raggiunge Massimino che si inginocchia per salutarlo qui anche una piccola parentesi culturale insomma Lazzaro non era tanto ignorante perché era una persona abbastanza dotta abbastanza istruita però sintica se ti becchi una greca che conosce bene la filosofia che ha il cervello che gli ha ragione insomma tennegli testa non è cosa tanto semplice quindi notare anche che Lazzaro sta già male quindi questa questa sua infermità agli arti inferiore sarebbe stato quello che l'abbia portato alla tomba con il famoso poi miracolo quanto da Gesù per tirarlo fuori ma soprattutto notare questo grande segreto una grande conversione si ha quando c'è proprio un trasferimento di energia no? un trasferimento di non è che devi fare chissà che o chissà che cosa invece il grande peccatore il classico grande peccatore basta che che sposta sposta l'obiettivo sposta sposta il bersaglio e esagera così come esagerato nel male che si è stato un grande peccatore vedete questo è quando Gesù dice nel libro dell'Apocalisse ma anche adombrato nel Vangelo magari fossi freddo caldo ma siccome sei tiepido sto per vomitarti dalla mia bocca cioè quell'arma in più che c'è il peccatore convertito il peccatore doc convertito è che come è stato audace e a volte sfrontato quindi nel fare il male adesso buon divertimento e si sfrontato tra virgolette nel fare il bene e nel crescere in grazia e santità ed è cosa di Gesù ha compreso la legge dell'ama Dio con tutto te stesso con il tuo corpo e con la tua anima e con tutte le tue forze e Lazzaro gli dice ma io tanto fuoco tanta gemma non so capire dove la trovi la sapienza le parole gli atti che trova da dove vengono sta roba qui da dove vengono noi riteniamo il fatto importantissimo che il potere della volontà è grande la nostra volontà è una grande risorsa figlioli miei cari usiamola volere è veramente potere se tu vuoi una cosa o non la vuoi ovviamente certamente vivendo in grazia perché la nostra volontà bisogna di essere corroborata per carità questo va tutto bene anzi benissimo anzi è necessario altrimenti come non detto però poi andiamo finito questo paragrafo c'è un altro che stavolta risposta all'attenzione su Maria di Magdala a ribrezzo del vizio che l'aveva soggiogata si intitola così altri incontri con la Magdalena e altri con mia di Dara si succedono nel continuo pericinare di Gesù ma senza un particolare rilevo per la discepola che vuole solo amare e servire e unione con i compagni la sua posizione sociale riemerge quando un ricco mercante lascia a Gesù un piccolo tesoro di pietre preziose che solo lei vuole riuscire a vendere e bene per i poveri e così dopo qualche tempo a Magdala puntini puntini e riapriamo il sipario le onde si frangono sulla spiaggetta di Magdala quando le due barche vi approdano in un tardo pomeriggio novembrino non sono grandi onde ma sempre moleste per chi sbarca perché le bestie si ammollano ma la prospettiva del pronto ricovero in casa di Maria di Magdala può sopportare senza pronto lì il non desiderato bagno ricoverate le barche e raggiunceteci dice Gesù ai garzoni e si mette subito in cammino lungo il litorale perché hanno fatto approdo in una caretta un po' fuori città da dove sono altre barche di pescatori di Magdala Giuda di Simone e Tommaso venite qui con me chiama Gesù i due accorrono ho deciso di darvi un incarico di fiducia e una gioia insieme l'incarico è questo che voi accompagnate le sorelle di Lazzaro a Betania e con esse Elisa vi stimo abbastanza per affidarvi le discepoli intanto porterete una mia lettera a Lazzaro poi compiuto questo incarico andrete a casa vostra per le inceni non interrompere Giuda tutti faremo le inceni a casa nostra quest'anno è un inverno troppo piovoso per poter viaggiare vedete che anche i malati dirallano perciò ne approfittiamo per riposarci e fare contente le nostre famiglie l'incenie era l'equivalente del nostro Natale perché l'incenie è la festa che si chiama tecnicamente della dedicazione del Tempio perché cade il 25 di Casleo nel calendario ebraico il 25 di Casleo è il mese di dicembre quindi intorno al nostro equivalente del Natale anche se i mesi del calendario ebraico sono mesi lunari quindi non è detto che il 25 sia proprio corrispondente a 25 però molto vicino puntini puntini sospensivi tra parentesi quadri e quindi il testo poi riprende così sono ormai alla casa di Maria di Magdala che sono arrivati si fanno riconoscere ed entrano tutti le donne a corno gioiose incontro al maestro venuto a ricoverarsi presso il loro focolare ed è dopo la cena quando già gli apostoli stanchi si sono ritirati che Gesù si è venuto al centro di una sala fra il cerchio delle discepoli e l'avverte del suo desiderio che partano al più presto al contrario degli apostoli non una di loro protesta chiedono il capo sentendo e poi escono per preparare i loro bagagli ma Gesù richiama la mandalena che è già sulla soglia ebbene Maria perché mi hai sussurrato all'arrivo ti devo parlare in segreto in segreto e dice maestro ho venduto le pietre preziose a Tiberiade le ha vendute Marcello con l'aiuto di Isacco ho la somma in camera mia non ho voluto che Giuda vedesse nulla e arrossisce vivamente Giuda scusate Gesù la guarda fisso ma non dice parola la mandalena esce per tornare con una borsa pesante che dà Gesù ecco dice sono state pagate bene ma grazie Maria ma grazie a te era buonipi di avermi chiesto questo favore hai altro da chiedermi no Maria e tu hai altro da dirmi no signore benedicimi maestro mio si ti benedico Maria sei contenta di tornare da Lazzaro pensa che io non sia più in Palestina ci torneresti volentieri a casa allora si signore ma termina Maria non avere mai paura di dirmi il tuo pensiero ma ci sarei tornata più volentieri se al posto di Giuda di Chieri ci fosse stato Simone Lozelote grande amico di famiglia dice Gesù mi occorre per una seria missione i tuoi fratelli allora o Giovanni la cuore di Colomba tutti tutti meno lui signore non mi guardare se è vero chi ha mangiato lussuria la mia ne sente la vicinanza non la temo so tenere a posto qualcuno che è ben più di Giuda ed è il mio terrore di non essere perdonata ed è il mio io ed è Satana che certo mi gira intorno ed è il mondo ma se Maria di Teofilo non ha paura di nessuno Maria di Gesù a ribrezzo del vizio che l'aveva soggiocata e la Signore l'uomo che si arrobella per il senso mi fa schifo bellissimo non sei solo nel viaggio Maria e con te sono sicuro che egli non ritornerà indietro ricordati che devo far partire sinti che Giovanni per Antiochia e che non si deve sapere da chi è un imprudente è vero andrò allora maestro quando ci rivedremo non so Maria forse solo a Pasqua vai in pace ora io ti benedico questa sera e ogni sera e con te tua sorella e Lazzaro buono Maria si curva a baciare i piedi di Gesù lasciando solo Gesù nella stanza silenziosa qui c'è una nota Giuda di Cariot non è estraneo alla delazione ai danni di Sintica e dell'anziano Giovanni di Endor due grandi convertiti colpevoli per il sinedio di essere lei una greca pagana e lui un ex galeotto i due discepoli saranno mandati in gran segreto ad Antiochia dove evangelizzano stando al sicuro nei possedimenti di Razzano il cui padre Teofilo fu governatore in Siria anche questa è una storia molto avvincente Gesù ha dovuto mandarli via a causa della presenza di quel rompitasche si può dire di Giuda Scariota che ha caricato e ci ha messo la firma dietro questa cosa ora anche qui bellissimo notare questa cosa i passaggi dove Maria di Magdala dice io ho mangiato lussuria mamma mia e quindi ne sente la vicinanza e vedete che significa l'uomo che si arrovella per il senso mi fa schifo ecco cari amici auguro tutti di condividere questo ribrezzo e questo vomito assoluto per tutte quante le cose che hanno a che fare con il senso ovviamente eccettuati c'è bisogno di dirlo chi vive dentro il sacramento del matrimonio che si può avere questa cosa tranne che nei confronti di una persona e nei confronti di una realtà che si vive con quella persona che è veramente che è che coni ovviamente no bene andiamo avanti ancora forse questo potrebbe essere l'ultimo paragrafo perché è un pochino più corposo ha portato a Gesù un suo ex amante a Cafarno nel terzo anno della vita pubblica di Gesù una guarigione spirituale e fisica è incastonata nell'episodio evangelico del tributo pagato con la moneta trovata in bocca al pesce la barca strofina sul greto si ferma ne scendono mentre l'altra barca si accosta per fermarsi Gesù con Giuda Tommaso Giuda e Giacomo Filippo e Bartolomeo si avvia alla casa Pietro sbarca dalla seconda con Matteo i figli di Zebedeo Simone e Zelota e Andrea ma mentre tutti si avviano Pietro resta sulla riva a parlare con i barcaglioli che li hanno condotti e che forse conosce e poi li aiuta a partire di nuovo Indi si riveste della veste lunga e rimonta alla spiaggia per andare verso casa mentre traversa la piazza del mercato gli vengono incontro due e lo fermano dicendo ascolta Simone di Gioia ascolto che volete il tuo maestro solo perché è tale ma le paga o non le paga le due dragme dovute al tempio certo che le paga risponde Pietro perché non dovrebbe fare ma perché si dice figlio di Dio e lo è e ribatte preciso preciso Pietro già rosso di sdegno e termina però siccome è anche un figlio della legge e il migliore che la legge abbia paga come un israelita le sue dracme non ci risulta dicono questi ci hanno detto che non lo fa e lo consigliamo a farlo Mugola Pietro che già ha la pazienza prossima ad esaurirsi anche Pietro spettacolo no? non ha bisogno dei vostri consigli mio maestro andate in pace e dite a chi vi manda che le dragme saranno pagate alla prima occasione pagate alla prima occasione rispondono questi perché non subito chi ci assicura che lo farà se egli è sempre qua e là senza meta non subito perché al momento non possiede un briciolo di quattrino potreste capovolgerlo e non ne casserebbe dentro uno spicciolo siamo tutti senza un denaro perché noi che non siamo farisei che non siamo scrivi che non siamo saducei che non siamo ricchi che non siamo spie che non siamo aspidi usiamo dare ciò che abbiamo ai poveri per sua dottrina capito? e ora abbiamo dato tutto e finché non ci pensa l'altissimo possiamo morire di fame non metterci a quest'area sull'angolo della via dite anche questo a quelli che dicono che lui è un crapulone addio e qui si ferma questo spuola di Pietro che li pianta in asso andandosene bombor borbottando e ardendo di irritazione ecco qui San Pietro si informa veramente di una consuetudine di nostro signore che appena gli arrivavano un po' di mezzi tra le mani svuotava tutto e dava tutto ai poveri e aveva insegnato questo radicalismo anche ai suoi discepoli entra in casa Pietro e sale nella stanza alta dove Gesù che ascolta uno che lo prega di andare in una casa sul monte dietro Magdala dove c'è uno che muore Gesù conge dall'uomo promettendo di andarvi subito e poi partito questo si volge a Pietro che si è seduto in un angolo pensieroso e gli dice che ne dici Simone secondo le regole i re della terra da chi ricevono i tributi e il censo dai propri figli o dagli estrani Pietro ha un sussulto e dice come sai signore ciò che ti dovevo dire Gesù sorride facendo un atto come dire lascia andare e poi dice rispondi a ciò che ti chiedo dagli estranei signore dunque i figli ne sono esenti dice Gesù come infatti è giusto perché un figlio è del sangue della casa del padre e non deve pagare al padre che è il tributo di amore e di ubbidienza dunque io figlio del padre non dovrei pagare il tributo al tempio che è la casa del padre tu hai risposto bene a costoro ma siccome c'è una differenza fra te e loro ed è questa che tu credi che io sono il figlio di Dio ed essi e chi li ha mandati non lo credono così per non scandalizzarli pagherò il tributo e subito mentre essi sono ancora sulla piazza a riscuotere e con che dice Pietro chiede Giuda se non abbiamo uno spicciolo chiede appunto Giuda che si è avvicinato con gli altri vedi se è necessario avere qualche cosa ce lo faremmo prestare dal padrone di casa dice Filippo Gesù facendo con la mano di tacere e dice Simone di Giona va sulla riva del mare e getta più lontano che puoi una lenza unita di un amo robusto e non appena il pesce a bocca tira a tira lenza sarà un grosso pesce sulla riva aprigli la bocca vi troverai dentro uno statere prendilo raggiungi quei due e paga per me e per te poi porta il pesce lo arrustiremo e Tommaso ci farà carità di un poco di pane mangeremo e andremo subito da chi sta per morire Giacomo e Andrea preparate le barche andremo con esse a Magdala tornando a sera a piedi per non ostacolare la pesca a Zebede e al cognalo di Simone Pietro esegue l'ordine del maestro e con arguzia riferisce il seguito ai compagni divertiti poi si affrettano ad andare tutti dal morente e Gesù dice al tramonto voglio essere qui di nuovo bellissimo qui bisogna fare forse un pit stop perché bisogna commentare un po' le parole che Gesù dice a Pietro e anche il dialogo che fanno no? anzitutto Gesù che sa tutto vedete Pietro eppure qui stiamo abbastanza avanti stiamo al terzo anno della vita pubblica ancora dice che ha un sussulto no? dice signore ma come sai ciò che ti dovevo dire ma è il nostro Dio amici miei cari sa tutto sa non c'è bisogno che sia formato di nulla né da noi né di nulla né di nessuno certo quando noi ci parliamo anche per dirgli tante cose come lui prima ha esortato Maria di Magda dimmi tutto non essere con me restio restia e noi Gesù dobbiamo proprio dirgli tutto dobbiamo parlare con lui di qualunque cosa esternargli le nostre difficoltà i nostri problemi perché lui ci ascolterà sempre e non dobbiamo essere sciocchi e dire mi racconto l'aneddolo di Santa Postia lo raccontano tante volte ehi ma che te lo racconta ma tanto tu già le sai le cose certo che già le sa noi non è che parliamo con il Signore per dargli informazioni sai che mi è successo signore mio ma lui lo sa te lo spiega lui quello che ti è successo non è che glielo lo dici tu però però l'importanza di questo gesto è renderlo partecipo quindi è chiamarlo a intervenire a interagire a non semplicemente interessarsi perché lui già si interessa ma a poterlo fare in maniera efficace nella tua vita è capite e questo è importantissimo questo qui sapete l'aneddoto di 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 faustina no che a un certo punto Gesù gli dice tu ancora non mi hai dato tutto di di te stessa staporaccia comincia a entrare in crisi come ho dovuto perché lei era era innamorata del signore dice comincia a pensare forse ho mancato all'obbedienza forse non ho fatto bene i miei due ho mancato la regola oppure forse non sono stato buono con Gesù forse ho fatto la comunione l'ho fatta fatta male che comincia a entrare in crisi ovviamente una una sorina innamorata di Gesù che si sente dire da Gesù in persona così sclerano chiaro e Gesù di chi era appare e gli dice guarda che tu non mi ha dato tutto ma per favore dimmelo niente due o tre volte alla fine gli dice ci hai pensato dice no non capisco dico vabbè molto lo dico io cosa non mi hai dato tu non mi hai dato le tue miserie anche Santa Faustina tra sempre le mie miserie che significa tu non mi hai dato le tue miserie tu non mi parli mai di te non mi parli mai dei tuoi problemi delle tue difficoltà e lei risponde ma signore ma tu sei Dio ma che ti devo dire io perché non le sai i miei problemi le mie difficoltà e lui risponde ma certo che li so ma fino a quando tu non mi li parli io li so ma ma sono i tuoi problemi perché io non ci metto mano non intervengo se tu non mi chiami se tu ne parli con me non è che mi dà un'informazione che io non ho ma mi chiami a intervenire in quello che tu vivi e questa è tanta roba ecco quindi noi non dobbiamo informare Gesù ma dobbiamo chiedergli aiuto e parlargli di noi e poi interessantissimo il discorso sul dunque i figli ne sono esenti e come lo motiva Gesù ma tu ci credi che io sono il figlio di Dio quelli no e quindi per questo si scandalizzeranno me ne faranno un sacco e una sport e vedete che Gesù fa questa cosa per non scandalizzarli e su questo amici cari dobbiamo stare attenti perché gli scandali sono una cosa oggettiva e perché sono una cosa molto grave Gesù ha detto guerra al mondo per gli scandali quindi per quanto sta in noi noi dobbiamo fare in modo di destare meno scandali possibili non solo quelli reali ovviamente insomma quelli che riguardano condotte disdicevoli quindi che se vengono conosciuti sono scandalose ma anche quegli scandali che derivano da come dire da impressioni che le persone possono trarre mutuare dai nostri comportamenti questo non deve accadere questo qui specialmente quando si tratta di cose che potrebbero essere in qualche modo opinate no dobbiamo avere questa attenzione su questo su questo era sempre attentissimo questo vale ovviamente in primis credo per consacrati ministri ordinati ma vale anche per tutti no faccio un esempio un po' perché si fanno gli esempi da sempre supponiamo una persona sposata maschio o femmina che sia è una cosa fatta bene secondo noi che questa va per esempio che so a prendersi il caffè da sola con una persona di sesso opposto in assenza della moglie e del marito è una cosa conveniente forse oggi ci fanno più caso sicuramente oggi ci fanno più caso ma un tempo un po' di caso ce lo facevano è una cosa che se si può evitare evidentemente è meglio giusto l'esempio più sciocco più banale che che mi viene ecco poi andiamo avanti Pietro se esegue l'ordine del maestro e con arguzia riferisce al seguito ai compagni divertiti poi si affrettano ad andare tutti dal morente Gesù dice al tramonto voglio essere qui di nuovo e proprio mentre si incendiano cielo e lago per i fuochi del tramonto e si ritornano verso Cafarno sono contenti parlano fra di loro Gesù parla poco ma sorride ma notano che se il messaggero fosse stato più preciso avrebbero potuto risparmiare sulla della strada ma però anche dicono che la fatica è balsa perché un gruppo di piccoli figli ha avuto il padre guarito quando già ho perso il segno scusate raffreddava per la morte vicino e anche perché non sono più senza un minimo di denaro ve l'avevo detto che il padre avrebbe provveduto a tutto dice Gesù ed è un antico amante di Maria di Magdala chiede Filippo pare a quello che ci hanno detto risponde Tommaso a te signore a te signore che disse l'uomo chiede Giuda d'Alfeo Gesù sorride evasivamente vedete come faceva quando non voleva rispondere a una domanda pure prima a Pietro no? si fa il sorriso evasivo perché permettete di fare un altro pit stop ci sono tante domande a cui non dobbiamo rispondere a altre non possiamo rispondere ad altre non è conveniente che rispondiamo noi non siamo obbligati a rispondere a tutti se lo sapete questo qui non siamo obbligati a rispondere tutto e avanti alle 12 ma me l'ha chiesto se la domanda è inopportuna o sconveniente tu non devi rispondere e il non rispondere ha come funzione va bene di far capire alla persona che non doveva chiederti quella cosa senza doverglielo dire questo attenzione non si deve fare per rificca o cose di questo genere quindi è un intervento correttivo perché la correzione fraterna che in certi casi è necessaria va fatta senza fare male a te signore che disse l'uomo questa è una domanda di curiosità e le domande di curiosità non si fanno io altre volte perdonatemi perché sto proprio un pallino che ho avuto modo queste sono cose che non si fanno cioè vi ricordate le catechesi per chi la sentite oh chi sono io per poter amare sta di nuovo online quindi bello arzillo ma c'è anche dal non senso della vita di cielo allora vi ricordate che il nostro io quadri partito c'è una parte che si chiama l'io segreto cioè la sfera dei cosiddetti affari propri oggi ultra tutelata che è la privacy l'io segreto viene comunicato ad altri solo se c'è un atto libero e volontario e spontaneo di chi il segreto ce l'ha ma tu non devi venire a sfrugugliare a curiosare non si può e non si deve e non si risponde questo è importante amici evidentemente non soltanto non si risponde questo direttamente ci fa anche capire uno stile uno stile che non dovrebbe essere smarrito nemmeno nemmeno nei casi di confidenza smettendo così il noto proverbio popolare che la confidenza è la madre della mala creanza guardate figlioli miei cari che alla base di ogni amore autentico pensiamo anche alla dimensione responsabile c'è il risp il rispetto pensate che due sposi si promettono di amarsi e di onorarsi tutti i giorni non soltanto di amarsi ma di onorarsi perché l'onore è più che il rispetto cioè il rispetto è che io non mi permetto certe cose per rispetto a te l'onore è che ti porto in palma di mano e chi è portato in palma di mano lo deve vedere che è portato in palma di mano lo deve percepire c'è un galateo da osservare anche tra marito e moglie oggi queste cose qui se ci pensano ma lo sapete che una volta i coniugi tra loro si davano del voi non lo so se l'ho già detto in qualche in qualche altra circostanza io sono favorevole dico subito a tutti quanti quindi se c'è qualche coppia di figliore spirituali che vogliono attivare questa procedura ci hanno la mia benedizione ma lo sapete perché un motivo molto semplice dare del voi non è formale come dare del lei ma del voi si dà una cosa preziosa importante quindi vuol dire tu sei importante sapete che una volta ci si rivolgeva anche guardate leggere Santa Alfonso Maria dei Liguori quando rivolge la preghiera alla Madonna e a Gesù che cosa dice voi 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 sapete quanta gente quando gli dico che i sacerdoti bisogna rispettarli e che bisogna dargli del lei a tutti sapete che mi dice accetti eh sì ma che te ne devi essere tu io dico del tuo al padre eterno che mi devo dare lei a te capite con una piccola differenza che il padre eterno sta lassù quindi il tuo certo se tu manchi di rispetto al padre eterno lo fai sempre come dire in privato no quindi senza conseguenze perché il padre eterno non è un essere umano allora dare del buio perché tu sei importante e se c'è questo stile guardate che le cose esteriori non sono non si ma queste sono formalità ma che sono queste cose qua queste sono cose formali io esorto a non cadere in queste in queste in queste stupidaggini non si tratta di cose formali perché la forma sarà anche cose formali ma la forma non serve aver studiato Aristotele e San Tommaso la forma è cioè forma e materia unite insieme fanno la sostanza non c'è tutta la forma c'è anche la la materia ma la forma è un po' voi sapete cos'è l'anima secondo San Tommaso D'Aquino per quelli che sono gli avversari della della forma è la forma del corpo leggete San Tommaso D'Aquino ah non posso usare delle espressioni un pochino feriali no e allora se due colonici si dessero del buio si rispetterebbero di più e sotto tutti i punti di vista anche certi perdonatemi che insomma io sono prete per esempio scusatemi eh a buon intenditor poche certe richieste riguardanti una certa sfera che chi ha il cervello capirà io mi permetto di chiedere una cosa a mia moglie o io a mio marito cioè ma 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 io non mi proprio permetto meno che mai lo esigo perché quella è una cosa preziosa io non la vado a ridurre a livello di una scusate no la forma è importante lo stile è importante Gesù qui ammaestra sorride evasivamente per non non soltanto non mortificare ma pure per non mancare alla carità quindi sfugge con questo stile bello no leggo se non facciamo il tempo a finire il paragrafo vedo qui il tempo corre io ho visto più di una volta io l'ho visto più di una volta con lei questo tizio quando andava a Tiberia dicono amici questo è certo se dice Matteo suo fratello accontentiamoci l'uomo ti chiese soltanto di guarire o di essere perdonato anche chiede Giacomo D'Alfeo ma che domanda senza ragione quando mai il signore non esige pentimento per concedere grazia dice di Scariota con alquanto sdegno per Giacomo D'Alfeo mia fratella non ha detto una stoltezza Gesù guarisce o libera e poi dice va e non più peccare gli risponde Taddeo ma perché vede il pentimento nei cuori ribatte l'Iscariota negli indemoniati non c'è pentimento né volontà di essere liberati non uno lo ha dimostrato tutto ciò ricorda di ogni caso vedrai che o fuggivano o si avventavano nemici o quantomeno tentavano l'uno o l'altra cosa e se non vi riuscivano era solo perché impediti a compierla dai parenti replica il Taddeo e dal potere di Gesù aumenta lo Zenote ma allora Gesù tiene conto del volere dei parenti che rappresentano il volere dell'indemoniato il quale se non fosse imperito dal demonio vorrebbe liberazione questo è sempre Giuda che pur da avere ragione si fa un po' di oh quante sottigliezze e per i peccatori allora mi pare che usi la stessa formula anche se non sono indemoniati dice Giacomo di Zebedeo a me ha detto seguimi e non gli avevo ancora detto una parola io in merito al mio stato osservo Matteo ma te la vedeva in cuore dice gli Scariota che vuole avere sempre ragione ad ogni costo quindi attenzione a chi vuole avere sempre ragione ad ogni costo che sappia che c'è un precedente illustre si chiama Giuda Scariota e va bene ma quell'uomo a voce di popolo grande libidinoso e grande peccatore e non indemoniato o meglio non posseduto perché un demonio con i suoi peccati lo doveva avere a maestro se non a possessore moribondo e così via cosa ha chiesto insomma stiamo andando a passeggio fra le nuvi mi pare stiamo alla prima domanda dice Pietro sempre che gli girano un po' Gesù lo accontenta quell'uomo ha voluto essere solo con me per poter parlare in libertà non ha esposto subito il suo stato di salute ma quello dello spirito suo ha detto sono morente ma non ancora come ho fatto credere per poterti avere con sollecitudine ho bisogno del tuo perdono per guarire ma mi basta questo se guarire non mi farai mi rassegnerò l'ho meritato ma fa salva l'anima mia e mi ha confessato le sue colpe una nauseante catena di colpe dice Gesù e dice così ma il suo viso spiegare di gioia e tu ne sorridi maestro mi fa specie osserva Bartolomeo questo è un altro israelita vecchio stampo si Bartolomeo ne sorrido perché esse non sono più e perché con le colpe ho saputo il nome della redentrice l'apostolo fu una donna in questo caso tua madre dicono molti e altri Giovanna di Cusa se lui andava a Tiberia di sovente forse la conosce Gesù scrolla il capo gli chiedono e chi allora Maria di Lazzaro risponde Gesù è venuta qui e perché non si è fatta venire da nessuno di noi non si è fatta vedere scusate Gesù risponde non è venuta ha scritto al suo antico compagno di colpa ho letto le lettere le lettere supplicano tutte la stessa cosa di ascoltarla di redimersi come le sia redenta di seguirla nel bene come l'ha seguita nella colpa e con parole di lacrime lo pregano di alleggerire l'anima di Maria dal rimorso di avere sedotto la sua anima e lo ha convertito tanto che si è risolato nella sua campagna per vincere le tentazioni della città la malattia più di rimorso d'anima che di fisico ha finito di prepararlo alla grazia ecco siete contenti adesso? comprendete ora perché sorrido? sì maestro dicono tutti e poi vedendo che Gesù allunga il passo come per isolarsi si mettono a bisbigliare fra di loro quindi vedete come sempre accade la grande peccatrice comincia a lavorare e ad operare perché perché alcuni che hanno purtroppo passato danni a causa del suo operato possano redimersi e questo si fa capire un'ultima cosa un'ultima considerazione siamo addirittura d'arrivo è che dopo che abbiamo fatto una vita di peccato e abbiamo il perdono non è che è finito tutto perché il resto della vita noi dobbiamo cercare di fare il possibile per riparare i danni che abbiamo combinato perché se li abbiamo combinati li abbiamo combinati ed anche per spiare le colpe e Maria di Magda saranno maestri in entrambe le cose qui abbiamo un esempio di come prende il coraggio a tre mani comincia a scrivere ed esorta il suo compagno di Bagordi a chiedere perdono e questo l'ascolta e ci abbiamo questa grande conversione bene amici la prossima che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti